Presentata a Torino, nella sede della città metropolitana di Via Maria Vittoria, la ricerca Homeless, un'indagine ricognitiva sul territorio della città metropolitana di Torino, realizzata e coordinata da Cesare Bianciardi per conto di Educamondo, in collaborazione con il Servizio Politico-Sociale di Parità della città metropolitana di Torino e grazie ai fondi stanziati dalla Fondazione Don Mario Operti e con la collaborazione scientifica di Antonella Meo dell'Università degli Studi di Torino. Gli Homeless non appartengono a un unico profilo, non c'è un tipo di persona che è Homeless, ma la popolazione Homeless è sempre più differenziata al suo interno. Non si tratta più dell'immagine stereotipata che avevamo nel passato di una persona del tutto esclusa socialmente, sganciata dal mercato del lavoro e dalle reti sociali, ma sempre più spesso cadono nella condizione di Homeless persone che in realtà hanno ancora capacità lavorativa, che hanno qualche rapporto con le reti sociali, che non sono del tutto ai margini della società. L'indagine, che si concentra sul territorio metropolitano, con l'eccezione della città di Torino, presenta per la prima volta una fotografia di cosa accade fuori dalla città. Finora gli studi sono sempre stati abbastanza incentrati in questa zona, sulla città di Torino. Volevamo un'idea chiara di quelli che sono i senza fissa dimora anche in tutta l'area della città metropolitana. Dalla ricerca emerge che non solo il numero dei senza tetto è in crescita, ma anche che un contributo fondamentale alla loro assistenza viene dalla realtà del terzo settore, che tuttavia agiscono in modo parallelo, non in rete, con i servizi pubblici. La Regione intanto ha attivato nei 15 giorni scorsi la rete regionale per la protezione e l'inclusione sociale, che mette insieme i principali attori istituzionali e le realtà del terzo settore. Questo per costruire insieme in maniera condivisa le politiche più adeguate, più efficace per il contrasto della povertà nella nostra Regione.